Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di esercizi sui vettori. Dati questi due vettori dobbiamo scrivere le componenti e disegnare il vettore somma. Le componenti le otteniamo proiettando sull'asse x e sull'asse y i due vettori. Questo è l'asse x e questo è l'asse y. Un quadretto rappresenta un'unità quindi possiamo scrivere che ay ha modulo 3 mentre ax ha modulo 4. Questa è ax, questa è ay. Per quanto riguarda il vettore b vediamo che proiettando sull'asse x il vettore b otteniamo la componente bx che è lunga due unità in più rispetto alla componente ax perciò è lunga 6 e per quanto riguarda la componente y vediamo che è lunga 3 ma è rivolta verso il basso perciò indichiamo meno 3. Ora dobbiamo disegnare il vettore somma. Utilizzo la regola del parallelogramma. Questo vuol dire che io devo prolungare a partire dalla punta di a un segmento parallelo a b e faccio la stessa cosa dalla punta di b traccio un segmento parallelo ad a che va a congiungersi al segmento che ho tracciato. Ho disegnato un parallelogramma. Quello rappresentato in rosso è il vettore somma a più b. Possiamo anche indicare le sue componenti perché avendo le componenti dei vettori a e b la componente x del vettore somma sarà data da ax più bx che è uguale a 10 mentre la componente verticale è data da ay più by ovvero 3 meno 3 uguale 0. In effetti avendo componente verticale nulla il vettore somma è un vettore orizzontale ovvero possiamo scrivere che il vettore somma anzi il modulo del vettore somma è uguale a sx che è uguale a 10. Qui volevo farvi vedere una considerazione puramente geometrica. Qui abbiamo un vettore v qui scomposto nelle componenti vx e vy. Ci viene fornito dal problema l'angolo di 30 gradi. Ci viene chiesto di determinare vx e vy sapendo che il modulo di v vale 10 metri. Allora noi abbiamo due possibilità. La prima possibilità è quella che abbiamo già visto in precedenza vx uguale v per il coseno di alfa e vy uguale a v per il seno di alfa e allora dovremmo fare 10 per il coseno di 30 gradi e qui 10 per il seno di 30 gradi. Qual è la considerazione che volevo fare? Quando l'angolo che ci viene fornito l'angolo che il vettore forma con l'asse delle x ha un valore particolare se ricordate la geometria il cateto che si oppone a un angolo di 30 gradi è uguale a metà dell'ipotenusa. Ripeto in un triangolo rettangolo il cateto che si oppone a un angolo di 30 gradi che in questo caso è questo cateto qui che è vy è la metà dell'ipotenusa. L'ipotenusa è 10 e allora da questo possiamo determinare che vy essendo la metà dell'ipotenusa vale 5. L'avevamo già ovviamente calcolato con le funzioni goniometriche. Per ottenere vx a questo punto posso fare banalmente v quadro meno vy quadro. Teorema di Pitagora. Naturalmente il teorema di Pitagora lo posso applicare anche qui ovvero nel momento in cui io determino una delle due componenti vx o vy la terza posso ricavarla col teorema di Pitagora però avendo la calcolatrice è molto più comoda ricavarla in questo modo. senza grosse sorprese ottengo come valore 8,7 metri. Se l'angolo fosse stato di 60 gradi anziché di 30 in quel caso se l'angolo fosse stato di 60 era il cateto vx ad essere la metà dell'ipotenusa. il vettore r ha modulo 1,50 centimetri. Se l'angolo teta è di 25 gradi quali sono le componenti cartesiane di r che qui vedete indicate rx ry. Per determinare le componenti ry uguale r seno di 25 rx uguale r coseno di 25. La nostra fidata calcolatrice ci fornisce per la componente y 0,634 centimetri per la componente x 1,36 centimetri. E ora vediamo questo problema. Nel libro l'isola misteriosa il capitano Cyrus Smith vuole determinare l'altezza di una scogliera. Si mette con le spalle alla base della scogliera poi cammina dritto davanti a sé per 500 metri. A questo punto si sdraia come vediamo dalla figura e misura l'angolo fra la linea orizzontale e la direzione in cui vede la cima della scogliera. Se l'angolo è di 34 gradi quanto è alta la scogliera? Questo è un classico problema di trigonometria. Questo è un triangolo lettangolo. D è l'ipotenusa, P è un cateto, H è l'altro cateto. Partiamo dai dati a disposizione. Abbiamo la lunghezza di questo cateto e l'ampiezza di questo angolo. Sappiamo che il cateto B è uguale a D per il coseno dell'angolo compreso tra D e B, ovvero il coseno di θ. Conosciamo θ. Conosciamo B possiamo determinare quanto vale D che è uguale a B diviso coseno di θ. Una volta che abbiamo determinato D conosciamo l'ipotenusa e un cateto, H sarà uguale alla radice quadrata dell'ipotenusa al quadrato meno l'altro cateto al quadrato. Perciò qui dobbiamo fare la radice quadrata di B diviso coseno di θ al quadrato. Ho sostituito al posto di D la sua espressione, meno B al quadrato. E qui abbiamo che B è 500 metri, perciò dovremmo fare 500 metri diviso il coseno di 34 gradi, e questo ce lo dà la calcolatrice, lo eleviamo al quadrato e gli togliamo 500 alla seconda. Usando tre cifre significative otteniamo 337 metri. La figura mostra la struttura di una molecola d'acqua. La distanza tra il centro dell'atomo di ossigeno e il centro dell'atomo di idrogeno è 0,96 Engstrom e l'angolo tra i due atomi di idrogeno è di 104,5 gradi. Ci viene richiesto di determinare la distanza fra i centri dei due atomi di idrogeno. Intanto ricordiamo che un Engstrom corrisponde a 10 alla meno 10 metri. Ho rappresentato così la situazione per mettere in evidenza un triangolo che nelle mie intenzioni doveva essere un triangolo isoscele, non è proprio bellissimo, però avendo messo che le distanze tra idrogeno e ossigeno sono uguali, qui abbiamo un triangolo isoscele nelle mie intenzioni. La somma degli angoli interni di un triangolo è 180 gradi. 180 meno 104,5 ci dà questi due angoli che essendo un triangolo isoscele sono congruenti, perciò otteniamo 75,5 gradi. Chiamando alfa e beta i due angoli e dividendo appunto 75,5 diviso 2 abbiamo che i due angoli misurano 37,75 gradi. Ora se noi dividessimo qui questo triangolo otterremmo due triangoli rettangoli. Se vado a vedere questo triangolo rettangolo che ho praticamente estrapolato da questo triangolo isoscele, l'angolo alfa appunto è 37,75, conosco quest'ipotenusa che è 0,96 Engstrom, posso determinare quanto vale la base di questo triangolo, chiamiamola B, che sarà poi la metà della distanza che io devo andare a cercare, cioè la distanza tra i due atomi di idrogeno. B è un cateto, è uguale a 0,96. L'angolo è compreso tra l'ipotenusa e la base, quindi prendo il coseno di quest'angolo. Ottengo 0,76 Engstrom. Per calcolare x non faccio altro che prendere due volte B e ottengo 1,52 Engstrom. Se voglio il risultato in metri non faccio altro che scrivere 1,52 per 10 alla meno 10 metri. Dobbiamo calcolare il prodotto scalare tra due vettori di modulo rispettivamente pari a 6 unità e 10 unità, le cui direzioni formano un angolo di 120 gradi. Indico qui i moduli di A e B, 6 e 10, e l'angolo compreso. Per determinare il prodotto scalare, ovvero devo fare A per B, A scalare B, devo fare il modulo di A per il modulo di B per il coseno dell'angolo compreso tra i due vettori. Facendo i calcoli otteniamo come risultato meno 30 unità. Ragazzi intanto se non l'avete fatto un'iscrizione al canale, attivate le notifiche così saprete quando usciranno i nuovi video. Spero che il video vi sia stato utile, se così non dimenticate di lasciare un like completamente gratuito. Condividete l'esistenza del canale, io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! Ciao!